Musica Musica ben trovati con questa nuova edizione del nostro telegiornale è in via di completamento la realizzazione dei quattro pozzi sottomarini e dell'impianto di trattamento del gas naturale questa mattina siamo saliti a bordo della nave Saipem 10.000 la nave che sta conducendo le fasi di perforazione Siamo a bordo della Saipem 10.000 la nave di Saipem che si sta occupando della realizzazione dei pozzi di estrazione di Argo Cassiopea in questo momento ci troviamo a 12 miglia alla costa di Gela esattamente sul pozzo Cassiopea 2 ci siamo spostati dal pozzo Cassiopea 1 entrambi i pozzi sono già stati completati il progetto Argo Cassiopea ormai è in dirittura d'arrivo una lunga giornata che è partita stamattina dal centro direzionale di Enimed da dove con un elicottero ci siamo spostati fino alla nave abbiamo sorvolato la piattaforma prezioso K atterrati qui sulla nave abbiamo cercato di capire a che punto è il progetto Argo Cassiopea uno dei progetti più importanti se non il più importante del protocollo d'intesa 2014 che rivoluzionerà di fatto l'estrazione del gas naturale con la stazione a terra che è quasi pronta che è stata realizzata all'interno della bioraffineria di Gela e soprattutto con i pozzi di estrazione quattro pozzi di estrazione che sono già in dirittura di arrivo ce l'ha spiegato proprio il responsabile di Saipem l'ingegnere Alina Pomare che abbiamo ascoltato questa mattina ascoltiamo il gas di produzione dei quattro pozzi sottomarini di Argo Cassiopea verrà convogliato all'interno della pipeline da 60 km che abbiamo già posato nell'estate per poi approdare all'interno della bioraffineria di Gela e arrivare alla stazione di trattamento e compressione nel quale il gas verrà portato a specifica SNAM per poi poter entrare nella rete nazionale contribuendo con una portata attesa di picco di un miliardo e mezzo di metri cubi annui un progetto importante per quel che riguarda la risoluzione della crisi energetica la transizione energetica ma soprattutto anche il rispetto dell'ambiente corretto, è un progetto che noi amiamo definire a chilometro zero che consente di sviluppare delle risorse nazionali contribuendo in parte ovviamente alla crisi energetica e sicuramente uno step importante nella transizione energetica che stiamo vivendo C'è un grandissimo impatto economico perché c'è l'investimento notevole da parte di Eni ma anche e soprattutto si sblocca la situazione delle royalties sul territorio Corretto, al di là di quello che è l'investimento importante che EniMed insieme al proprio partner Energean ha contribuito in maniera significativa c'è poi l'aspetto successivo, quando entriamo in produzione ovviamente il tutto si convertirà anche in delle royalties Un progetto importante come dicevamo che ha avuto un lungo iter di realizzazione è entrato nella fase esecutiva a luglio del 2022 da maggio 2023 sono in corso le attività realizzative a mare e da novembre 2023 è stata avviata la campagna di perforazione e completamento dei pozzi che come diceva appunto l'ingegnere Povera verrà completata entro l'estate del 2024 Il gas naturale estratto verrà immesso poi nella rete di distribuzione del consumo nazionale Si parla di riserve estimate per circa 10 miliardi di metri cubi di gas è una produzione annuale che supererà il picco di un miliardo di metri cubi di gas insomma una grande mano per la transizione energetica ma soprattutto per la povertà energetica del paese il gas come diceva appunto l'ingegnere Povera a chilometro zero che potrà essere utilizzato su tutto il territorio nazionale dalla Saipem 10.000 per il momento è tutto I porti di Gela, Licata e Porto Empedocle si riuniscono in un'unica corporazione che avrà in servizio tre piloti effettivi efficienza, efficacia e maggiore soddisfazione dell'utenza sono questi tre obiettivi che la corporazione si è posta la sede effettiva della corporazione sarà presso la Capitaneria di Gela grazie al concorso per piloti effettuato lo scorso anno la corporazione si avvarrà di due neopiloti Alessandro Di Giulio e Vito Grafato in occasione della conferenza stampa è stato dato il benvenuto al nuovo capo pilota il comandante Rocchetti che guiderà i piloti della corporazione stamattina è stato dato riconoscimento anche a Giovanni Canale che per 30 anni ha prestato servizio a Gela senza l'abbrivio giusto del centrodestra ufficiale fuori dai blocchi le manovre si susseguono, i moderati sarebbero pronti a consolidare il rapporto con diversi pezzi del centrodestra e ci sono stati contatti con DC e Forza Italia si è rispunta all'ipotesi dell'ex dirigente comunale Cosentino nel tentativo di individuare un candidato a sindaco condiviso L'area moderata in attesa di lanciare ufficialmente Gela al centro è tra quelle che in questi giorni appare in fase di piena attività il tavolo dei moderati ha archiviato l'iniziale interesse per la Gora politica fino ad ora non ha espresso candidati alla corsa a primo cittadino la proposta del socialista Piero Nigro venne avanzata ma proprio in un contesto progressista come quello della Gora in quel caso il via libera è arrivato per Di Stefano finale che ha sancito l'addio definitivo alla coalizione composta da progressisti e civici gli approcci con il centrodestra invece in questo scorcio sono assidui il conclave dei partiti d'aria non riesce a trovare un'intesa su un candidato condiviso che possa guidare la coalizione i moderati così consci della Stasi e De Vetti che non consentono a Fratelli d'Italia di avere l'assenso definitivo per la candidatura a sindaco del consigliere comunale Vincenzo Casciana sono all'opera nel tentativo di creare più di un ponte i contatti con la DC sono quasi conclamati il commissario Cuffariano Giuseppe Ricata e il segretario provinciale d'Italia Viva Giuseppe Ventura hanno riaperto un canale di comunicazione in questione tra i più osservati per la stessa ammissione dei moderati il loro tavolo va avanti compatto e la kermessa ribattezzata Gera al centro fissata per il prossimo 6 aprile dovrebbe essere l'occasione per ufficializzare un candidato a sindaco prima di allora i moderati starebbero lavorando per cercare di compattarsi con il centrodestra ieri ci sarebbero state interlocuzioni tra Avventura Licata e il parlamentare Ars di Forza Italia Michele Mancuso, punto di riferimento degli azzurri in città una convergenza capace di mettere insieme moderati e sigle di centrodestra potrebbe rilanciare la strada per una candidatura unitaria l'identikit mai ufficializzato da nessuno fino ad oggi sarebbe quello dell'ex dirigente comunale l'ingegnere Grazia Cosentino da alcuni anni ai vertici della struttura tecnica di impianti SRR la società controllata dalla SRR4 che gestisce le servizio rifiuti e la piattaforma integrata di Timpazzo i dirigenti di Fratelli Italia che fino a poche settimane fa erano in predicati di esprimere un loro candidato a sindaco come guida della coalizione centrodestra insistono sull'opzione casciana che però sta creando pochi riscontri certi un'intesa di massima tra moderati e pezzi importanti del centrodestra dovrebbe far scaturire riflessioni profonde pure in casa Fratelli d'Italia i melognani non possono correre il pericolo di rimanere isolati magari perdendo pure l'assenso degli azzurri di Forza Italia le manovre più o meno coperte sono in corso e soprattutto la dimensione locale del centrodestra sta generando strategie che possono frazionare ancora di più il campo dei contendenti al posto di sindaco a giorni infatti dovrebbe essere annunciato il potenziale nome di un'alleanza per la città con alla base liste che si rifanno al presidente il civico consesso Salvatore Sammito a gruppi civici e probabilmente a partiti intenzionati ad accettare il progetto marcatamente territoriale al momento un filo conduttore ma anche nella centrodestra è gara alla leadership ed è stato individuato il nuovo dirigente al bilancio il sindaco Lucio Greco dopo le valutazioni condotte dalla commissione interna ha formalizzato la nomina della dottoressa Maria Concetta Bonfirraro attuale funzionario nel settore dei tributi del municipio una scelta che va in continuità dato che il neodirigente conosce la situazione emergenziale dell'ente dovuta sia al dissesto sia all'eseguità della dotazione del personale Bonfirraro ha già svolto incarichi negli uffici finanziari del comune di Niscemi a Palazzo di Città opera nel settore tributi come funzionario responsabile le dimissioni dell'ex dirigente del settore Alberto De Petro risalente due anni fa aprirono un vuoto nella struttura finanziaria del municipio rimasta priva di una guida stabile e nel piano dell'emergenza del bilancio il parroco della Chiesa Madre Don Cultraro invita i fedeli a partecipare alle processioni con un cuore predisposto alla preghiera ricorda infatti che non si tratta di folclore ma di tradizione che si rinnova ogni anno e che viene tramandato alle nuove generazioni inoltre invita la città alla pace tra le famiglie attraverso piccoli atti concreti la settimana santa di quest'anno si colloca in un momento storico in cui la violenza la fa da padrone dalla sparatoria al teatro di Mosca rivendicato dall'ISIS alla guerra tra amasse e israele che sulla striscia di Gaza ogni giorno conta centinaia di vittime e feriti fino alle riste tra mamme davanti agli istituti scolastici e gli atti di violenza diffusa tra i giovani per questo motivo e non solo nella locandina diramata dalla Chiesa Madre Gelese spicca una preghiera un vero e proprio inno alla pace viviamo un tempo di grande confusione di grande conflittualità a livello internazionale certamente ma io penso anche a quelle guerre che ci sono anche all'interno delle famiglie nelle nostre società nella nostra città e allora questa preghiera vuole essere innanzitutto una richiesta al Signore perché la pace vera solo Lui ce la può donare e poi vuole essere anche un impegno che ci prendiamo che ci assumiamo per essere operatori di pace il Vangelo ci fa ricordare beati gli operatori di pace perché saranno figli di Dio saranno chiamati figli di Dio allora lavorare anche nel piccolo in questi che sono i rapporti interpersonali nelle relazioni familiari o amicali che viviamo coltivare il senso della pace la concordia, l'unità questo è fondamentale perché noi dobbiamo pensarci sempre come il lievito che è capace di fermentare la pasta per tutti i cittadini gelesi le celebrazioni della settimana santa sono un momento di preghiera e riflessione sono sempre di più infatti i fedeli che partecipano alle processioni è la settimana più importante dell'anno perché la settimana santa ha il suo momento culminante nel triduo pasquale che ci fa celebrare la morte e risurrezione di Cristo non è folclore i nostri padri hanno evitato il folclore attorno a questo mistero della morte e risurrezione di Cristo noi li viviamo con intensità spirituale anche le processioni sono breve, contenute anche come nel tempo e si sono semplicemente per poter portare in mezzo al popolo di Dio le sacre immagini del Cristo e della dolorata e invitare così a un momento di penitenza di conversione dopo la celebrazione delle palme che ricorda l'ingresso di Gesù a Gerusalemme organizzata da tutte le 13 parrocchie cittadine la chiesa gelese si ritroverà domani sera per accompagnare le sacre figi del Cristo caricato dalla croce e della dolorata alla chiesa del rosario dove per tutto il giovedì sando i fedeli potranno vasare Iperio Signore il venerdì poi dopo la preghiera dei salmi alle 11.30 porteremo il Cristo al calvario per la crocefessione e lì subito dopo il messaggio del Vescovo alla città un messaggio che ci attendiamo perché il nostro pastore è l'apostolo di questa chiesa che certamente viene a confermarci nella fede è tutto quello che abbiamo vissuto e continueremo a vivere La settimana santa è un momento di prova anche per la comunità diocesana dei sacerdoti fortemente scossa dalla condanna di Giuseppe Rucolo dello scorso 5 marzo dopo 4 anni e mezzo di indagine per violenza sessuale su questo delicato argomento il vicario ha preferito non commentare Ci sarà un supporto esterno per cercare di arrivare alla prima ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato richiesto alla COSFEL senza personale numericamente adeguato ci sarà un supporto anche per gli atti propedeutici resi necessari dal dissesto Una prima ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato va predisposta non oltre il prossimo giugno già a fine febbraio la commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali lo ha comunicato a Palazzo di Città il dissesto dell'ente comunale infatti impone tappe precise il settore finanziario del municipio però in piena emergenza manca personale numero sufficiente per affrontare la mole di adempimenti dettata dal dissesto la COSFEL è stata chiara e l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato non potrà tardare fine giugno è la scadenza posta e probabilmente in municipio ci sarà già una nuova amministrazione gli uffici tecnici devono comunque avviare le attività con la carenza di personale senza un dirigente a tempo pieno le procedure per la selezione sono ancora in corso la aggiunta ha autorizzato la via di un supporto esterno probabilmente un professionista esperto in materia di contabilità degli enti locali e che abbia una formazione approfondita in tema di dissesto e risanamento una scelta volta ad ottenere una formazione maggiore sul tema per i pochi dipendenti in servizio negli uffici finanziari e un supporto materiale nella redazione degli atti propedeutici e nell'effettuazione di tutti i passaggi necessari lungo il percorso per uscire dal dissesto del municipio la giunta ha dato il via libera all'atto di indirizzo a disposizione c'è una cifra non superiore ai 20.000 euro per avere il supporto ritenuto necessario il dissesto ufficialmente dichiarato sul fine dello scorso anno è arrivato al culmine di verifiche che hanno fatto emergere un disavanzo di circa 118 milioni di euro l'amministrazione lo ha più volte legato a precedenti esperienze di governo nella città una situazione che non ha agevolato la fase conclusiva del mandato dell'attuale giunta senza una dirigente a tempo pieno e con uffici finanziari minimi sul piano della dotazione di personale la giunta ha rilasciato l'ok al supporto esterno che possa fare da guida per arrivare ad un primo schema di bilancio riequilibrato da mesi inoltre si attende l'insediamento della commissione straordinaria di liquidazione ed è uscito ieri 25 marzo il nuovo romanzo le storie non raccontate punto di non incontro dell'autore gelese Walter Pelligra si tratta del primo volume di una trilogia interamente autoprodotto il primo traguardo dopo 17 anni di lavoro e maturazione creativa il romanzo è stato presentato in anteprima lo scorso giovedì durante una serata in un noto locale della città che ha già suscitato curiosità e interesse tra il pubblico presente in sala un progetto a cui l'autore ha cominciato a lavorare dall'ormai lontano 2007 rimaneggiato più volte prima di arrivare alla stesura finale in particolare il periodo del lockdown è servito a rivisitare i capitoli e a riscriverne da capo il contenuto l'autore Walter Pelligra scrive storie sul web ed è appassionato musicista inizia a scrivere le storie non raccontate durante gli anni del liceo traendo spunto da grandi scrittori come King e Bradbury dedicandosi all'approccio su generi come fantascienza horror dramma seguendo lo stile tipico americano e basandosi principalmente sul periodo adolescenziale l'impresa Emma lavori di San Cataldo si è giudicata all'appalto per 3 milioni e 363 mila euro finanziati col programma rigenerazione urbana nel PNRR previsto come da capitolato un premio di accelerazione che non potrà superare il 20% dell'importo a base d'asta i lavori interesseranno 67 ettari di parco la vecchia masseria sarà ristrutturata ci sarà spazio per il racconto della memoria educazione ambientale e no tech ed esposizione di prodotti tipici attraverso un impianto di cucina lo show cooking domenicale firmato ieri pomeriggio in municipio il contratto con l'azienda Emma lavori di San Cataldo per l'affidamento dell'appalto integrato e la progettazione ed esecuzione dei lavori che interesseranno 67 ettari del parco di Montelungo alla presenza del sindaco Lucio Greco il segretario generale Carolina Ferro il dirigente del PNRR Antonio Collura e i rappresentanti della stessa impresa è avvenuta la firma che marca i 600 giorni entro i quali l'intervento dovrà essere ultimato pena revoca del finanziamento previsto dal PNRR prevediamo nel giro di qualche settimana l'avvio dei lavori per iniziare questo progetto significativo di riqualificazione di tutta l'area di Montelungo sarà un bel parco a verde che potrà essere utilizzato come percorso ciclo turistico ciclo pedonabile a salvaguardia dell'ambiente e a valorizzazione del patrimonio comunale a questo si aggiunge che il patrimonio comunale quindi la grande masseria sarà tutta riqualificata e adibita a sezione dedicata al museo dello sbarco a spazi espositivi a locali per enoteca e presentazione di prodotti tipici locali a foresteria ad area laboratori bene possiamo dire che davvero dalle parole stiamo passando ai fatti da qui a qualche settimana potrete toccare con mano potrete costatare diviso che partiranno davvero i lavori e non si fermeranno perché se si dovessero fermare corriamo il pericolo di perdere il finanziamento ci sarà dunque uno spazio per il racconto della memoria un punto di accesso per l'educazione ambientale enoteca ed esposizioni di prodotti tipici attraverso un impianto di cucina lo show cooking domenicale saranno ospitati i cultori del turismo alternativo e percorsi cicloturistici si punta ad una gestione sostenibile economicamente non pensabile da parte pubblica la sfida è recuperare salvaguardare il bene paesaggistico previsto come da capitolato un premio di accelerazione che non potrà superare il 20% dell'importo a base d'asta che era di 4 milioni e 100 mila euro se l'impresa sarà così brava e così veloce da ultimare i lavori prima avrà diritto ad una premialità non superiore al 20% dell'importo dei lavori aggiudicati l'impresa Emma Lavori si è aggiudicata l'appalto per 3,363 milioni di euro finanziati con il programma rigenerazione urbana del PNRR il sindaco risponde anche agli scettici che pensano che si tratti di annunci di cammagna elettorale dopo aver appaltato i lavori e dopo averli aggiudicati e dopo che stiamo iniziando a sottoscrivere i contratti e fra qualche settimana vedremo davvero mettere la prima pietra cantierizzare tutte queste aree che saranno ricalificate riammodernate riappellite che davvero dalle parole passiamo ai fatti la cronaca giudiziaria parte oggi la fase del riesame a seguito dei ricorsi presentati dai legali degli indagati nel blitz antimafia Janus per gli inquirenti clan delle famiglie Rinzivillo ed Emanuello si stavano riorganizzando concentrandosi sul traffico di droga il maxi blitz Janus ha portato all'esecuzione di 55 misure cautelari su disposizione dei PM della Didia di Caltanissetta sono state ricostruite le presunte nuove geografie criminali delle famiglie di Cosa Nostra degli Emanuello e del Rinzivillo in fase di interrogatorio di garanzia molti degli indagati hanno preferito avvalersi e la facoltà di non rispondere ma comunque rilasciando dichiarazioni spontanee nel tentativo di chiarire le rispettive posizioni in tanti hanno escluso un'appartenenza ai clan che avrebbero avuto come vero core business quello del traffico di droga oggi le difese esporranno le ragioni dei loro ricorsi direttamente al riesame di Caltanissetta inizia infatti proprio la fase del riesame che si protrarrà per diversi giorni sono state fissate le primodienze appunto per gli inquirenti a reggere le sorti della famiglia Rinzivillo era il 51enne Giuseppe Tasca sul fronte di Emanuello invece sarebbe toccato al 41enne crocifisso di Gennaro anche loro sono coinvolti nell'inchiesta destinatari di misura di custodia cautelare in carcere i presunti capi e chi li avrebbe affiancati cercheranno di ottenere una rivisitazione delle contestazioni e delle misure in totale gli indagati compresi quelli non raggiunti da misure restrittive sono oltre 70 due successi prestigiosi che spianano la strada per la fase nazionale prevista a fine maggio a Rimini si confermano campioni regionali Tiziana Rapicavoli e Luigi Vella del kickboxing K1 per Tiziana è un successo ancora più importante perché è arrivato in una nuova categoria ovvero quella dei 35-40 kg necessario per l'aumento di peso e di altezza durante la sua fase adolescenziale mentre Vella combatte sempre in quella dei 30 kg la tappa regionale per i due allievi allenati dal maestro Carmelo Caio la si è svolta nella bella cornice di Palabattiati di Sant'Agata Libattiati in provincia di Catania prossimo appuntamento 7 aprile a Comiso è chiaro come l'obiettivo sia la fase nazionale ma per farlo i due ragazzi devono confermarsi in ambito regionale è tutto il nostro telegiornale termina qui per gli altri approfondimenti vi rimandiamo al quotidiano di Gela.it adesso vi lascio le previsioni medio grazie per averci seguito Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti